Aveva 10.000 file di violenze su bambini, arrestato un tretnuttenne, accusato di pedopornografia, già in passato era stato condannato e detenuto per abusi su minori, brutale pestaggio a un disabile, arrestato un minorenne, l'episodio di inaudita violenza era accaduto lo scorso 15 giugno a Marsala, protesta dei soccoritori del 118 a Palermo, al centro è il dissenso, il cambio degli orari dei turni e gli arretrati sui buoni pasto, forum della prevenzione a Palermo, nelle 23 tappe, l'INAIL ha l'obiettivo di promuovere in tutte le regioni l'ascolto, il dialogo sociale e istituzionale per migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Compia oggi 80 anni il fotografo bagherese Ferdinando Scianna, l'amministrazione comunale di Bagheria lo ringrazia per aver dato lustro al nome della città nel mondo. Ben ritrovati alla prima edizione del Tg di Median News di martedì 4 luglio, apriamo con la cronaca, Agrigento aveva 10.000 file di violenze su bambini, arrestato in fragranza di reato un 38enne, è accusato di pedopornografia, già in passato era stato condannato e detenuto per abusi su minori, vediamo. Aveva oltre 10.000 file riproducenti raccappriccianti scene di violenza sessuale su bambini, alcuni dei quali in tenere età. Al termine di una complessa e prolungata indagine, personale della Polizia Postale, del Servizio Centrale di Roma e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Palermo ha tratto in arresto e in flaganza di reato in provincia di Agrigento un uomo di circa 38 anni. Il soggetto, già in passato, condannato e detenuto per abusi su minori, era stato segnalato nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e gli approfondimenti investigativi si sono inseriti nella costante attività di contrasto alla produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico su internet, svolta dalla specialità in collaborazione con le polizie e le agenzie straniere impegnate nella lotta al cybercrime, oltre che con Europol ed Interpol. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che ha disposto alla perquisizione domiciliare del soggetto. Nel corso della perquisizione informatica eseguita sui dispositivi, nella disponibilità dell'indagato, nonché nei cloud utilizzati per la conservazione dei contenuti illeciti, è stato trovato un ingente quantitativo di materiale prodotto usando violenza su bambini in tenera età, stimabile in più di 10.000 file tra video e immagini. D'intesa con l'autorità giudiziaria di Palermo, le indagini proseguiranno anche con le attività specialistiche di analisi delle immagini nel tentativo di identificare le piccole vittime, avvolendosi dell'accesso diretto all'International Child Sexual Exploitation, data base delle immagini pedopornografiche presso l'Interpol di Lione, in cui sono archiviati file utili all'identificazione di minori e abusanti, condivisi dalla comunità internazionale di polizia. I carabinieri di Paternò hanno notificato avvisi orali emessi dal questore di Catania e 15 denunciati per la rissa avvenuta nella zona della Movida di Biancavilla davanti ad una nota panineria. Di questi 12 sono stati colpiti dall'ulteriore provvedimento del divieto di accesso agli esercizi pubblici, due dei quali aggravati con la previsione dell'obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di Biancavilla nel weekend durante le ore della Movida. I fatti risalgono al mese scorso, quando un gruppo di italiani e albanesi, a causa di un'incomprensione, sono arrivati alla lite con calci, pugni e lanci degli sgabelli all'esterno dell'attività commerciale. Solo l'intervento dei carabinieri ha permesso di sedare la rissa, evitando che potesse degenerare ulteriormente e identificare alcuni dei soggetti coinvolti. L'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza ha consentito poi ai carabinieri di ricostruire nel dettaglio i fatti e appurare l'origine della rissa, individuandone tutti i partecipanti, tra i quali erano presenti persone già denunciate per lo stesso reato e sottoposte al provvedimento del questore di divieto di accedere a luoghi pubblici, la daspo urbano, proprio nella stessa panineria. Brutale pestaggio ad un disabile, restato un minorenne. L'episodio di inaudita violenza era accaduto lo scorso 15 giugno a Marsala. I carabinieri della stazione di Petrosino, su disposizione della Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, hanno arrestato un 17enne in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in istituto penale minorile emessa dal GIP. Il ragazzo è ritenuto l'autore, insieme ad un altro giovane, appena maggiorenne, già in carcere, del brutale pestaggio avvenuto nella notte del 15 giugno scorso quando, nel quartiere periferico di Strasatti, frazione di Marsala, nel Trapanese, un uomo disabile, intento ad acquistare sigarette, era stato brutalmente aggredito da due giovanissimi. Le indagini avviate dai carabinieri, dirette dalla Procura di Marsala e della Procura per i minorenni di Palermo, avevano consentito di identificare subito gli autori, arrestare nell'immediatezza il maggiorenne, un ragazzo di Petrosino, già noto per altri recenti episodi di violenza, e oggi arrestare anche il minorenne. Protesta dei soccoritori del 118 a Palermo, al centro del dissenso, il cambio degli orari, dei turni e gli arretrati sui buoni pasto. Il cambio delle fasce orarie sui turni ha suscitato il dissenso dei soccoritori del 118, a loro dire inascoltati dalla SEUS. Oggi a Palermo un corteo di operatori del 118, da Piazza Leggiotto, si è diretto all'assessorato regionale alla salute, per chiedere l'attenzione delle istituzioni su un problema che causa malumori e difficoltà per gli addetti al soccorso in strada. La nostra protesta è incentivata soprattutto sugli orari, sui buoni pasto, che molto probabilmente è una cosa già dovuta che ci dovranno dare, e sul tempo tutta. Per quanto riguarda gli orari, nell'ultima seduta gli abbiamo avuto in assessorato, l'assessorato ci aveva proposto, propinato una situazione, ma a quanto sembra non è stato trovato un accordo fra di loro e la SEUS. Oggi siamo qui per questo motivo, lo rimarremo fino a stasera, eventualmente domani riprenderemo il sit-in, perché sarà un sit-in permanente. Anche se il giorno 19 avremo un incontro con l'azienda, in cui ci ha convocati come sindacato Cobas, dico le cose non cambiano finché non si dirà che intenzioni hanno nei nostri riguardi e qual è la loro prospettiva nel futuro. Nei turni contestiamo innanzitutto il discorso che i turni hanno portato 7-19-0-7, mentre l'azienda di testa sua, percependo la sua arroganza, ha portato i turni 21-09-09-21. Questo non è possibile anche per motivi di logistica, sia di smonte che familiare, ci sono tanti motivi che non combaciano più. Dico, abbiamo accettato tante cose, ma questa proprio non può andare giù. Sono diversi anni che siamo nella categoria distrattata. Noi chiediamo soltanto di essere ascoltati, noi chiediamo soltanto i nostri diritti, non vogliamo nulla. Molto spesso vengono prese delle decisioni senza coinvolgere quelli che sono gli attori del sistema. Gli attori del sistema sono i soccuritori del 118. cambiare gli orari e fare una turnazione, dove dalle 7 del mattino alle 9, smontare da una notte, stiamo tutto il giorno in mezzo alla strada, tutta la notte in mezzo alla strada, abbiamo chiesto la rimodulazione degli orari semplicemente per una situazione logistica e soprattutto sanitaria, perché dalle 7 alle 9 c'è un picco di chiamate. Siamo persone che dobbiamo aiutare, siamo persone che dobbiamo salvare i piedi. Voltiamo pagina, forum della prevenzione a Palazzo Steri a Palermo, 23 tappe, con l'obiettivo da parte dell'Eneil di promuovere in tutte le regioni l'ascolto, il dialogo sociale e istituzionale, gli investimenti e il trasferimento tecnologico per migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. A Palazzo Steri a Palermo, il forum della prevenzione sviluppato dall'Eneil, la tappa siciliana del forum, patrocinata dall'Università degli Studi di Palermo e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, vede relazionare esperti nazionali nel settore della sicurezza sul lavoro di Eni, ST, Microelectronics, Unipa e Eneil. La roadmap del forum della prevenzione si articola in 23 tappe ed ha l'obiettivo di promuovere in tutte le regioni in ascolto, il dialogo sociale e istituzionale, gli investimenti e il trasferimento tecnologico per migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Gli infortuni sul lavoro sono sempre troppi, questo non lo si può negare, anche perché ancora registriamo mille infortuni mortali l'anno. Vi ricordiamo ciò nonostante che nei confronti internazionali con i paesi con cui ha senso misurarci la Germania, la Francia, la Spagna. In Italia per 100.000 lavoratori abbiamo un numero di infortuni più basso. Questo significa che questo paese nell'arco degli ultimi 20 anni ha costruito un meccanismo di risposta robusto che deve penetrare sempre di più quel reticolato di imprese piccole, piccolissime, pulviscolari dove infatti si concentra il più alto numero di infortuni gravi e a questo lavoro, che è una continuità e un rafforzamento di quello che è stato fatto in Italia fino ad oggi e che con le tappe di questo tour cerchiamo di fare, a questo lavoro va aggiunto una seconda iniziativa che è costruire l'architettura ulteriore per fronteggiare i rischi cosiddetti emergenti, quelli che ancora non abbiamo individuato nella loro specificità e sono legati alle grandi trasformazioni del sistema economico, del mondo del lavoro o della società. Il rischio chimico in Sicilia perché? Perché una delle importanti aziende che sono presenti nella nostra regione è l'Eni, che ha un importante peso a livello di prodotto interno regionale e ha un importante peso anche a livello occupazionale che sul territorio regionale. La stessa cosa avviene per quanto riguarda il settore elettronico, che oggi è presente qui, per quanto riguarda tutto quello che occuperà da qui in avanti la produzione azientale sull'intelligenza artificiale, sulla robotica e su quelli che sono gli strumenti che possono in qualche modo migliorare i livelli di sicurezza nelle aziende. Assegnati i premi della nota piattaforma web e social leader in ambito medico sulla base dei voti di pazienti e colleghi. Il siciliano, il migliore angiologo d'Italia, Giovanni Alongi, per la terza volta vince il mio dottore award, votato da pazienti e colleghi specialisti. E' il siciliano Giovanni Alongi, il migliore angiologo d'Italia, secondo la piattaforma web e social più grande e autorevole in ambito medico, che ogni anno assegna un premio allo specialista più apprezzato e votato sia dai pazienti che dai colleghi della medesima specializzazione. Il mio dottore awards 2023 è giunto alla sesta edizione e ha l'obiettivo di mettere in luce non solo la qualità professionale dell'operato dei medici recensiti, ma anche l'empatia, la disponibilità, la dedizione e l'umanità nella prestazione delle cure. Sono molto felice per questo premio, è il terzo anno consecutivo, è un premio che mi inorgoglisce perché non è soltanto un premio alla tecnica, alle tecniche o alla tecnologia, è un premio che viene dai pazienti, viene dagli altri colleghi di tutta Italia, degli angiologi e dei chirurghi vascolari, che ringrazio per aver fatto il mio nome, ma soprattutto è un premio alla dedizione, all'empatia e all'amore, alla relazione medico-paziente, perché io metto tutto me stesso, tutta la mia vita a questo tipo di trattamenti, che oggi fortunatamente riescono ad evitare l'intervento chirurgico per chi soffre di problemi di safene, di bene varicose. Sono delle patologie croniche, per cui le patologie croniche hanno necessità di un rapporto medico-paziente ottimale, e ricevere questo premio ci inorgoglisce a me, a tutto il mio staff, perché ci consente, ci dà la motivazione per andare sempre più avanti. Un progetto di ricerca per rispondere ai cambiamenti climatici, il progetto Veisca raccoglie studiosi da tutta Italia per proteggere i vigneti di Menfi attraverso nuove tecniche e strumenti d'avanguardia. Un progetto che risponda efficacemente ai cambiamenti climatici per preservare le piante da uva e migliorare la qualità dei vini prodotti nei 6.000 ettari di terreno di Menfi. Si chiama Veisca e intende combattere l'aumento delle temperature, far fronte alla riduzione e irregolare distribuzione della piovosità e all'aumento della CO2. Attraverso diverse tecniche, come lo studio approfondito dell'umidità e dello stato idrico dei suoli calcarei, le migliori combinazioni di innesto ed innovative e reti ombreggianti, gli studiosi provenienti da diverse università italiane stanno raccogliendo i primi dati che sembrano incoraggianti. Attraverso il progetto Veisca con l'Università di Palermo, con la SACIM e con il CREA noi abbiamo fatto degli approfondimenti studiando molto quello che è l'adattamento della vigna a quelle che sono le condizioni e il cambiamento climatico che stiamo vivendo, quindi delle prove sperimentali anche con rete ombreggianti ma non solo, anche con delle prove su porti innesti che ci stanno dando tutta una serie di informazioni fondamentali e importanti per poter fronteggiare quello che sarà l'evoluzione appunto del clima nei prossimi anni. I risultati sono assolutamente importanti ma siamo molto soddisfatti di quello che stiamo scoprendo e tutto ciò ci sarà utile per confermare che la nostra azienda è un'azienda che si muove sul solco della ricerca della sperimentazione confermando che la zona di Menfi è comunque una zona di biodiversità a cielo aperto che sicuramente è quel plus in più che vogliamo in qualche modo anche comunicare. È un progetto questo molto complesso che vede la partecipazione di tante unità operative il nostro compito in particolare al momento si è rivolto alla caratterizzazione degli ambienti viticoli e a quello che oggi si definisce il microbioma cioè tutta la caratterizzazione dei microorganismi che troviamo nei suoli dei vigneti questo è un aspetto secondo noi oggi molto importante perché va a influire sulle caratteristiche delle produzioni e quindi alla fine poi sulla qualità dei vini siamo in presenza di vigneti che vengono coltivati su suoli calcarei ma che hanno caratteristiche fisiche molto diverse si passa da suoli sabbiosi a suoli ricchi di argilla ma con questa componente di presenza molto rilevante sempre del calcarei ecco noi abbiamo caratterizzato all'inizio del progetto i diversi vigneti e poi contiamo anche al termine delle varie prove di effettuare una nuova ricognizione sui terreni per vedere anche l'effetto delle gestioni differenziate o delle diverse tecniche di irrigazione che vengono utilizzate compie oggi 80 anni il fotografo bagherese Ferdinando Scianna l'amministrazione comunale di Bagheria ringrazia pubblicamente Scianna per il lavoro svolto e per aver dato lustro al nome di Bagheria nel mondo nato il 4 luglio del 1943 compie oggi 80 anni il fotografo bagherese Ferdinando Scianna Scianna è uno dei più noti fotografi italiani Fortunato è il suo incontro nel 1963 con Leonardo Sciascia con il quale pubblica a 21 anni il primo dei numerosi libri poi fatti insieme Feste religiosi in Sicilia che ottiene il premio Nadar Scianna in seguito si trasferisce a Milano dove lavora presso il settimanale L'Europeo ricoprende il ruolo di fotoreporter inviato speciale e corrispondente da Parigi dove vive per 10 anni Torna ripetutamente in Sicilia per documentare i volti della sua gente e le tradizioni popolari ancora vive nell'isola nel 1977 pubblica in Francia le Sicilienne con testi di Dominique Fernandez e Leonardo Sciascia e in Italia la Villa dei Mostri nuovamente con introduzione di Leonardo Sciascia a Parigi scrive per Le Monde e soprattutto conosce Henry Cartier-Bresson le cui opere lo avevano influenzato fin dalla gioventù il grande fotografo lo introdurrà nel 1982 come primo fotografo italiano nell'agenzia fotografica internazionale Magnum Photo tratterà membro effettivo nel 1989 nel frattempo stringe amicizie e collabora con vari scrittori di successo tra i quali Montalban che conosce quando si reca in Spagna in occasione di un servizio sulla guerra civile spagnola Shanna viene contattato da Dolce e Gabbana allora agli esordi nel mondo della moda per realizzare una campagna pubblicitaria la campagna fu scattata in Sicilia il team di lavoro era composto solamente dai due stilisti e il fotografo Shanna scelse luoghi dell'infanzia inusuali per la fotografia di moda ma il successo dei suoi scatti fornì un contributo essenziale alle campagne di Dolce e Gabbana della seconda metà degli anni Ottanta e alla crescita del brand questo servizio apri a Shanna le porte di Vogue e di Grazia con cui collaborò molto negli anni Ottanta affermandosi nell'alta moda in pubblicità come uno dei fotografi più richiesti con il concittadino Giuseppe Tornatore in occasione del film Baria pubblica nel 2009 il libro fotografico omonimo al fotografo siciliano sono state dedicate diverse mostre tra cui l'ultima a Venezia nel 2020 Sole e luna Doc Film Festival 18 il successo della serata inaugurale i film di questa sera da Odessa alle traversate nel Mediterraneo fino alle foreste devastate del Brasile applausi e posti tutti i sauriti alla serata inaugurale di Sole e Luna Doc Film Festival con la prima assoluta di Talking Will Rivers del regista iraniano Mohsen Mak Malbaf negli ultimi 40 anni ho diretto e prodotto 10 film documentari sull'Afghanistan ha detto in tutti questi anni ho avuto la sensazione che il mondo non si sia reso conto delle sofferenze del popolo afgano questo film è un tentativo di spiegarle le complessità della situazione in un linguaggio semplice e comprensibile attraverso le produzioni realizzate negli anni da me e dalla mia famiglia sui vari aspetti di questa complessità subito dopo la proiezione il regista ha risposto alle domande del pubblico insieme al curatore della rassegna su Iran e Afghanistan Italo Spinelli la seconda giornata del Sole e Luna Doc Film Festival 18 entra in quelli che sono i temi più forti di questa edizione guerra migrazione e ambiente da Odessa prima delle bombe al fenomeno migratorio attraverso nafragi e storie di riscatto per una riscrittura delle regole di asilo e migrazione in Europa e poi in Brasile tra le donne indigene in lotta per proteggere l'ambiente da deforestazione e agribusiness e nella terza sala per creare legami con i corti vincitori della prima edizione di Menti in corto e i film di Sicilia Doc la rassegna fuori concorso in collaborazione con la CSC e la sua direttrice artistica Costanza Quadriglio Sarà presentata stasera a Palazzo Reale di Palermo l'installazione Site Specific 150 93 8 dell'artista internazionale Edoardo Dionea Cicconi in anteprima le immagini dell'opera che si trasforma al crepuscolo posizionata al centro del cortile Macheda di Palazzo dei Normanni segue la geometria radiale della pavimentazione un prisma ottagonale che manifesta due identità tra giorno e notte nelle ore diurne l'opera assorbe il sole creando un gioco di specchi col buio gli specchi si dissolvono nella trasparenza illuminandosi di notte le grandi lastre ricreano l'effetto dell'aurora boreale l'installazione sarà fruibile al pubblico fino al 20 agosto Nuovo cinema condiviso è il titolo del lavoro discografico del cantautore catanese dinastia all'interno del disco la collaborazione del brano la serie perfetta con J-AX con cui ha iniziato il suo percorso artistico nel programma The Voice of Italy nel 2015 brani come visioni oniriche viaggi inconsci ispirati a film citazioni a registi e serie tv e questo è il filo narrativo che unisce i pezzi di Nuovo cinema ha condiviso il progetto discografico del cantatore catanese dinastia all'interno del disco spicca la collaborazione nel brano la serie perfetta con J-AX con cui ha iniziato il suo percorso artistico nel programma The Voice ho conosciuto AX a The Voice ed è stato bello perché lì diciamo che ho accantonato un attimo l'idolo e ho trovato un amico perché poi con lui dopo quella parentesi televisiva c'è stato il fatto che gli ho aperto i concerti ho collaborato al suo disco da solista come coautore come ad esempio Via di Qua insieme a Mr. Rain e altri brani all'interno del suo ultimo albumo da solista ho continuato a collaborare insomma con lui in studio e quindi c'è un'amicizia che dura da quel The Voice lì il rapper Maurizio Musumeci in arte dinastia è conosciuto a parte per le sue canzoni che interpreta in prima persona anche per essere l'autore di cantanti del calibro di Marco Mengoni e J-AX nel suo percorso artistico e professionale ha collaborato anche con Fio Zanotti sicuramente quando faccio le mie canzoni ci metto una particolarità sono molto più minuzioso perché da buon nerd cerco di essere abbastanza curioso in quello cui vado a fare le ricerche ad esempio questo album che appunto come dicevo è incentrato sul cinema sui film serie tv e registi è partito da un viaggio a New York e da lì ho fatto delle ricerche perché volevo all'interno di ogni canzone un'ispirazione particolare quindi sono molto minuzioso l'idea di fare canzoni per altri invece è molto stimolante perché ti porta a veicolare messaggi che magari io come dinastia non canterei mai però è bello il fatto di mettermi a confronto con altre realtà e quello mi stimola tantissimo lo prendo molto spesso come un esercizio di stile a catania summerfest il cantatore irlandese diamond rice apre la rassegna dei grandi concerti l'atmosfera magica del concerto di diamond rice ha segnato l'apertura nel giardino bellini del ciclo di grandi eventi del catania summerfest un avvio straordinario per la rassegna promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino il cantautore irlandese dal timbro inconfondibile ha coinvolto con una performance emozionante ed intimista sia i catenesi sia i tanti turisti presenti si dal primo brano accolto con applausi e standing ovation ed è stato questo l'andamento di tutta la serata specie dopo la richiesta abituale per il musicista il poeta della chitarra che ha invitato gli spettatori ad alzarsi dalle sedie per avvicinarsi al palco e cantare insieme a lui un coro di voci in una villa bellini illuminata per lo più da luci soffuse Rice non ha bisogno di artifici solo qualche chitarra una tastiera e soprattutto le canzoni gioca con i vuoti e i pieni spettacolari e intensi in qualche monologo sfoggia anche una vena di auto ironia polistrumentista il cantautore suona chitarra piano basso clarinetto e percussioni il prossimo dei grandi concerti a Villa Bellini è in programma per domani mercoledì 5 luglio alle ore 21 sul palco Maluma a Villa Bellini a Villa Bellini a Villa Bellini Lui è meglio di me, è lo spettacolo che andrà in scena venerdì prossimo alle 21.15 a Remida, Casa Cultura a Palermo. Un tributo a due artisti della canzone italiana, Gianni Morandi e Adriano Cedentano. A omaggiarli Giovanni Bonsignore in arte Streetman e Gianni Marchese. Lui è meglio di me, è lo spettacolo che porta in scena questo fine settimana un omaggio al molleggiato e al Gianni Morandi nazionale. Ed è proprio un omaggio alla musica italiana, due giganti della musica italiana come Adriano Cedentano e Gianni Morandi. Streetman, nonché Giovanni Bonsignore, anche con i suoi personaggi, tra cui anche un ultimo personaggio Maria De Filippi e anche Tony Manero della Febbre del sabato sera sarà presente in questo spettacolo. E poi una carrellata della musica italiana, le canzoni di Adriano Cedentano e Gianni Morandi. Sarà uno spettacolo in cui anche il pubblico sarà coinvolto. Quindi anche il pubblico sarà coinvolto cantando? Sì, decisamente il pubblico è fondamentale. Il pubblico si deve divertire ma soprattutto interagire anche con noi. È quello che faremo. Sei in Reduce da un'esperienza televisiva molto importante. A gennaio sei stato protagonista a tale e quale show sulla Rai. Sì, a gennaio ho avuto la possibilità di fare questa esperienza con Carlo Conti a tali e quale show in cui ho portato uno dei miei personaggi amato da ragazzino che è il grande Adriano Cedentano. La cosa che io dico sempre, io non sono un sosia, ma interpreto Adriano Cedentano che ce n'è uno solo in tutta Italia. Però ha sempre fatto innamorare tutti con le sue canzoni dai più piccoli ai più grandi. Che cosa ti colpisce di più di Cedentano? Di Cedentano mi colpisce oltre ad essere un grande cantante, secondo me, un po' la sua personalità. Un po' la sua storia della musica italiana anche come attore, come regista, ma anche come presentatore televisivo. Ricordo tantissimo anche quando lui è riuscito a far spegnere la tv a tutti gli italiani anche con le sue pause. Passiamo allo sport. Crono scalata. Giarre Montesalice Milo. Tutto pronto per la gara del 9 luglio. Presentate le novità della 24esima edizione. Cresce l'attesa per la crono scalata Giarre Montesalice Milo Memorial Isidoro di Grazia. Storica competizione automobilistica amata dai tanti appassionati di motori. La manifestazione, giunta quest'anno alla 24esima edizione, si aprirà venerdì 7 luglio con le consuete verifiche tecniche. Proseguirà sabato 8 luglio con le prove ufficiali e culminerà domenica 9 luglio con la gara. L'evento sportivo organizzato dall'Automobile Club Cireale e dalla scuderia Giarre Corse è stato presentato nel Salone degli Specchi del municipio di Giarre. Questa 24esima edizione è un riproporsi di questa manifestazione sportiva dove peraltro ci sono stati in passati grandi campioni a livello siciliano, a livello regionale. Parlo del principe Grimaldi, di Canino, di Villa, più ne ha più ne metta. E quindi quello di stamattina è veramente un momento per me molto bello, interessante per lo sport ma si abbina anche a fare conoscere il nostro territorio. Mare, Monti, c'è anche peraltro il sindaco di Riposto che è arrivato con invito che ho fatto personalmente, il sindaco di Milo. Quindi è un po' la contea che sta incominciando veramente perché era da molto tempo che non camminavano assieme non soltanto su manifestazioni sportive. Ma non voglio ricordare appunto il SIRU che è una misura importante dove si comincia a ragionare tra i comuni della provincia di Messina e i comuni della provincia di Catania. Ed è questo il ragionamento di territorio dove anche lo sport, la cultura, le infrastrutture, la mobilità ci stanno tutte. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News. Grazie.